www.mesmerism.info 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 Eccolo, io bravo, bravo, bravo. La sera ha concluso la penultima partita, Borreale contro l'Africo ha vinto l'Africo 2 a 0. Ora stanno cercando il campo nell'ultima partita il quadro del Donatello e del Vita. Tira Luca, mattina! Il copio avanti! Tira! Forte! Vai, vai! Sei in battuta! Bravo! Musica! Ferri! Ferri! Rosamo lette! Caracchini, cantando! Forse da il Wave! E' che si pareggia! Allora, dai, dai! Ciao! Dai, dai, conchi! Luca! Dai, Andre, bravo! Dai, 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 dai! Vai, dai, dai, dai! Tira! Tira! Ecco, no! Buono! Buono, buono! Vai, 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 Ludo! Tira via! Tira via! Tira via! Bravo, bravo! Buono! 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 La faccia così! La faccia di questa! Voi ci vede! Armino! Armino! Vai, Loni! Nulla, non lo so! È sparito? Eh? Guarda! 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 Ragazzi! Guarda! 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 No, la fatti qualcuna, poi la fatti. Dai, Ludo. Dai, Ludo. Dai, Ludo. È buona, è buona. Dai. 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 Andiamo, andiamo. Buona. Dai, Ludo. Dai, Ludo. Dai, Ludo. Ciocala. Dai, drogala. Dai, Edo. A presto, a presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto, a presto. 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 A presto. A presto, a presto, a presto. 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 Grazie a tutti. 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 Bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Grazie a tutti. 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 Tira, la sceglia! Dio santo! Vai! Vai! Ancora, vai, bravo, dai, ancora, dai, attaccalo, è nostra, è nostra, è nostra, partì, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale, è uguale. E' uguale, vai, bravo, vai. Vai, vai, vai! C'è da dire anche una cosa, che dimmi che ora che ho un anno più di noi si controla anche l'archivimbo che scomincia a sviluppare e la differenza fisica di realtà. Senti Jessica, vai. Cassi, un esistente! Grande, grande! Ciao, vai un'orecchina! Che dopo ti faccio vedere la posizione! Vai Ledo, vai Ledo! Giallo! Oddio, oddio! E se andate a casa da noi, e giallo insieme a loro! Ma ci stanno fanno per noi perché l'otto nera abbiamo scacciato! E giallo insieme! Andato, famo a noi! E se ne ha fatto male loro! Giallo insieme per i neri! Non mi viene più più sanno! Ma lei! Un abbraccio! Dio, Dio! Dio, Dio! Non sono! Vai, vai su! Uscila lassù! Vai su! Non ci sono! Non ci sono! Grande, non è l'uomo! Vai Ledo, vai Ledo! Vai! Vai Ledo, vai Ledo! Vai Ledo! Bravo! Vai Ledo! Bravo! Vai Lored! Eccola! Cos'altro questo? Tutti dentro! Vai! Vieni! Vieni! Vai l'aria! Tira, si attacca! Vieni dentro! Secondo! No, no, non si mette. Eh, no, però! Vieni! Vieni dentro! Vieni! Eccolo lì. Vieni! Allora, va ti fa no, dai! Ripogna! Vieni dentro! Vieni dentro! Vai! Vai, vai, Tommy! Accolo! Anche l'angolo. Tutti dentro! Accanto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.